Il 33esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La Chiesa ricorda la presentazione del Signore. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Sabatino. Il nome deriva dall'ebraico Sabat e significa colui che è nato di sabato. È infatti un nome dato tradizionalmente i bambini nati di sabato. Accadde oggi. Il 2 febbraio del 1536 lo spagnolo Pedro de Mendoza fonda in Argentina la città di Buenos Aires. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 2 febbraio ricordiamo la cantante colombiana Shakira e la cantautrice Nina Zilli. La citazione del giorno. Non affannatevi per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Gesù di Nazareth. Dice il saggio. L'unico vero modo per apparire più giovane è non nascere così presto. Il bel paese. Se avete in programma una visita a Bari non vi fermate alla superficie. Esiste infatti la possibilità di visitare la Bari sotterranea. Un percorso suggestivo che parte dall'età del bronzo passando attraverso l'epoca romana e quella gloriosa della capitale dell'impero bizantino in occidente. Quando chiese cristiane bizantine sorgevano a poca distanza le une dalle altre e tutto intorno si sviluppavano case e botteghe. Attraverso le complesse stratificazioni nascoste nel sottosuolo della città sarà quindi possibile fare un percorso arritroso nel tempo alla scoperta di sorprendenti scorci urbani. Grazie. Grazie. Grazie.